Allora mister Bondi, un pareggio che sta di beffa alla fine di questa partita? Ma l'avevamo raddrizzata, eravamo di nuovo andati in vantaggio, certo un rigore così, un'ingenuità di un ragazzo giovane, ci può stare, sono contento perché abbiamo fatto una grande partita giocando secondo me veramente bene, peccato quelle due disattenzioni sui primi due gol, uno ce lo siamo fatti noi, un primo gol, però c'è ancora da lavorare, la squadra sta crescendo, abbiamo dimostrato carattere per andare a raddrizzare, questa è la cosa positiva da cui dobbiamo partire.